Ecco ragazzi, ci siamo persi nei meandri della Sardegna. Siamo quattro giovani in cerca di salvezza. Io sono Fabrizio Tanca. Quello che vedete alle vostre davanti con lo zanetto rosso è Giovanni. Un saluto, fa finta di essere contento ma è molto preoccupato. In bianco c'è Francesca. Più avanti Anna e Antonio con la sigaretta che guida il gruppo. Non sappiamo dove cazzo siamo. Ti mangeranno i lupi, i mannari o i cinghiali? Forse più i cinghiali, Giovanni. Però noi sappiamo di farci. Possiamo vedere che tutto qua hanno girato il mistero di Mowgli. Quando Mowgli è morto. Questo è il nostro ciclo di iniziazione prima di diventare uno spartano. Gli spartani venivano lasciati da soli. È molto pericoloso. Possiamo ammirare la faunistica intatta. Millenni e millenni di natura incontaminata. In sottofondo i motori rombanti. Delle macchine da riemi. Ragazzi, sono allo estremo delle forze. Chiudo, ci sentiamo dopo. Se sono ancora vivo. Grazie. Grazie. Grazie.